stiamo registrando questo contenuto quando è già passato un po di tempo dalla fine della partita stiamo cercando di sbollentare stiamo cercando anche di metabolizzare tutto quello che è successo tra Roma e Salernitana partita la prima di Serie A per la nostra squadra del cuore e anche per la Salernitana terminata sul punteggio di 2 a 2 ma per chi ha visto la partita sa tutto quello che è successo qui facciamo il pagellone diamo i voti ad ogni singolo interprete ragazzi non ce ne vogliate solo della Roma i nostri c'è anche lui di mezzo altrimenti il contenuto durerebbe un'ora e non mi sembra il caso quindi siamo tifosi della Roma ci dobbiamo sfogare per quello che abbiamo visto sulla Roma facciamo i voti solo del non direi solo sfogare dai poi ci inoltriamo nell'argomento ciao a tutti ben ritrovati vi chiediamo vi chiediamo scusatemi semplicemente di lasciare mi piace su questo video per supportare questo genere di contenuti non vi costa nulla farlo se vi iscrivete attivate la campanella potete restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa perché vi arriva la notifica se vi iscrivete ci farebbe veramente tanto tanto piacere perché il nostro sogno su questo canale è un giorno provare ad arrivare a 250.000 iscritti non è una cosa impossibile io ve lo chiedo in totale onestà se ci seguite spesso su questo canale non siete iscritti se ve va fatelo ci fareste veramente contentissimi ad entrambi grazie a chi lo farà due canali di calcio un canale extra calcio li trovate qui sotto in infobox durante il video compariranno qui mi fa strano fa sto pagellone se volete potete farlo anche voi qui sotto nei commenti io voglio entrare nei meriti di alcuni singoli perché credo che sia anche necessario sì sì per forza per forza perché poi tu capisci bene non è prendersela con quel determinato calciatore no però è ancora una sconfitta perché io manco riesco a io manco riesco a pensare che alla fine siamo riusciti a pareggiarla perché per me quella era finita basta era persa sì come si era messa quindi alla fine allora lui patricio che io vuoi dire lui patricio secondo te perché ho sentito qualcuno dire e vabbè ma sul secondo gol cioè ma poteva ma stiamo a scherzare ma che cosa ci cosa ci poteva fare e nessun secondo perché veramente che andrea pesca due conigli dallo stesso cilindro nella stessa partita nell'arco pure da pochi minuti a cavallo tra fine primo e inizio secondo raga lui patricio non c'ha colpe vuoto sei o per meglio dire una valutazione neutra nel senso non c'ha colpe no ma non ha subito altri diri non ha fatto proprio nulla sarebbe cioè se non avesse preso quei due diri era senza voto non so se rendo l'idea sono assolutamente d'accordo con te su Gianluca Mancini io onestamente sarò un po cattivo e per quanto poi ribadisco abbiamo subito due gol di cui un euro gol che si è inventato che andrea e la disattenzione difensiva la disattenzione la sua secondo me sì allora aspetta però la disattenzione sul primo gol diciamo che parte da lui perché lui fa l'errore in uscita esatto poi nell'uno contro uno l'errore arriva su Smalling poi a Smalling ci arriviamo perché è proprio il prossimo è Mancini che ha lasciato la prateria però io gli do 5 è un errore che noi tra virgolette non gli perdono perché poi alla fine comunque la pareggiamo la partita non la perdiamo però l'unico errore che ha costato veramente troppo no secondo me no secondo me 5 e mezzo non è comunque sufficiente ma l'errore secondo me quello più grave e più evidente è quello di Smalling sì forse no forse c'è ragione no fermi obiettivamente dai su facciamo allora 5 e mezzo a lui e facciamo 5 a Smalling mi sa che c'è ragione sarei stato troppo cattivo con Smalling e onestamente anche perché avresti dovuto 4 e mezzo che poi per carità viene pure sostituito dopo 65 minuti perché al posto suo subentra addirittura Paredes quindi poi c'è Cristante che va a scalare la linea di difesa ma quello è un altro discorso però forse Smalling dei tre del pacchetto difensivo quasi quasi c'è sto ripensando il peggiore te dico la verità ma forse quasi quasi a 5 Smalling 5 Mancini secondo me alla fine ripensandoci attentamente anche l'uscita l'irruenza l'uscita la seppi gli palla basta gli isolazioni sei ripartito però Mancini al di là dei guerri cioè ha lasciato il buco poi Smalling sì nell'uno contro uno ok io do responsabilità non voglio far torti a nessuno 5 entrambi scusatemi se ci ripenso di continuo ma ancora non sono neanche abbastanza lucido vi dico la verità io invece tendo a confermare 5 e mezzo a Mancini abbassare di mezzo voto per Smalling 5 dici che comunque Mancini ha rischiato tutto per tutto ci stava a metter piede però poi però non serviva diciamo un errore meno evidente ma l'errore rimane e quello di Smalling invece l'uno contro uno ti sei fatto saltare se hai fatto metà culo per terra mettetela come mi pare allora onestamente subentra facciamolo subito il voto di Paredes perché poi c'è il cambio se non poi me lo dimentico anzi no lo facciamo dopo Paredes continuiamo col pacchetto dei difensori a Llorente io invece do 5 e mezzo perché dei tre è quello che fa meno danni è quello che anzi in un paio di occasioni ragazzi un paio di falcate non so se ti ricordi attentamente era lui è entrato proprio qualche sovrapposizione per allora per via centrali eh io alla fine una sufficienza ma striminzita forse non sei meno gli do perché comunque non fa grossi errori come hanno fatto Mancini e Smalling quindi per distacco cioè per differenza il migliore che rimane è lui del pacchetto difensivo quindi un voto diverso glielo devo dare però è impreciso tante volte ho visto sbagliati passaggi anche quando si è proposto in avanti a buttarlo dei palloni un po' così a caso qualche passaggio ma non me ne ricordo onestamente non ero molto lucido per valutare regà voi dovete anche mettervi nei nostri panni da tifosi della Roma quando vedi steppa perché in conto dici la partita la stai a vincere fino a che stavamo a vincere fino a che stavamo al 35esimo la partita la stavamo analizzando in un determinato modo sei anche più lucido ma quando te partono quando te parte la brocca quando vedi determinate cose che te stranisci non te metti là a vedere esattamente te risaltano solo gli errori quelli pesanti si risaltano per il resto poi c'hai capito non so se ti succede pure a te ma a me mi succede abbastanza spesso no te si annebbia te si attappa la vena però io credo che a Jorenten sei meno ciò io lo posso no io confermo il 5 e mezzo per quanto riguarda Christensen a me onestamente non mi è piaciuto per niente io do 4 e mezzo a me ma proprio voglio essere proprio cattivo non mi è piaciuto esagerato perché al di là che non ti è piaciuto non ha fatto nessun errore cioè non è stato non è un calciatore che può imputagli ed essere il peggiore in campo rispetto ad altri che t'hanno fatto subito il gol 5 5 io sono dato 5 a smallling a Christensen e gli do da 5 e mezzo secondo me è troppo per me smallling è stato quello che ha fatto l'errore più grave di tutti quelli che sono stati visti non posso dare lo stesso non posso dare lo stesso voto con dalla smallling no io gli do lo stesso voto io gli do lo stesso voto perché te dico la verità forse avevo io qualche aspettativa di troppo sul calciatore io sinceramente non mi aspettavo troppo intimorito però allora però aspetta anche per dei veri di suoi perché sicuramente non si è fatto vedere in nessuna occasione mi hai fatto venire in mente ha fatto una diagonale ha chiuso una diagonale stop non mi ricordo altro anche i compagni però non si sono impegnati molto nel cercarlo forse è un'intesa che deve essere ancora trovata 5 e mezzo 5 si per non essere cattivi mettiamola così dai sto cercando di sbollire di tornare un po più sul pianeta terra e di non essere troppo cattivo per irruenza per di pancia ecco a bava io la sufficienza gliela voglio da onestamente non so se sei d'accordo con me ha fatto una partita alla fine secondo me decente buona non parlo solo dei primi tempo io ti dico la verità un paio di volte si è fatto saltare ha provato un paio di volte ha fatto anche fallo però per il resto comunque io credo sia uscito solo perché comunque la situazione era un pochino strana eravamo sotto nel punteggio credo che in un'altra situazione forse bove non sarebbe uscito o comunque se proprio doveva sarebbe uscito molto più tardi quindi forse verso il 75 80 no io credo che forse 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 bove c'aveva ancora qualcosa da dare ma voluto stravolgere murigno secondo me non ha fatto neanche male per forza di cose e allora visto che carsdorp lo possiamo considerare tra virgolette un difensore no esce christens e ne entra lui quindi di ruolo diciamolo immediatamente io a carsdorp gli voglio dalla sufficienza pure io gli dai la sufficienza sì sì assolutamente perché comunque allora non è stato un lavoro evidentissimo quello di carsdorp però nel momento in cui ce l'hai avuto molto meglio ha spinto c'è stato un miglioramento ma più che altro perché anche i compagni si ridavano un pochino di più a giocare su quel lato quindi c'erano delle soluzioni in più a christens e lui la passava è per quello che ti sto dicendo non so se ho visto io male ma mi sembrava che gli passassero la palla no no i compagni l'hanno cercato poco questo è evidente è ok per questo per questo li dico carsdorp merita sicuramente un punteggio più alto ma neanche affatto chissà che cosa fa sufficienza non so se sei d'accordo con me subentrano se non mi sbaglio insieme erano quei quattro cambi insieme tutti e quattro carsdorp paretes renato sanchez e vediamo più avanti più avanti mi ricordo io a paretes e a renato sanchez da sei e mezzo entrambi non so se siete d'accordo con me paretes l'assist ma comunque ho visto un buon atteggiamento renato sanchez un paio di spunti interessanti un paio di volte palla al piede ha perso e poi non si sa come ha recuperato la palla con qualche cincischio o qualche rimpallo però c'ho in mente un'azione in cui in progressione è partito ne ha saltati un paio se non mi ricordo male e ha messo sta palla in mezzo guarda dove se non mi sbaglio un giocatore della roma in ritardo un anticipo ma una azione veramente pericolosa l'impatto dei calciatori che sono appena arrivati per quanto paretes conosce l'ambiente ma è passata una vita si sono sbarcati ieri è quello che voglio dire cioè hanno dato la svolta secondo me cioè hanno aiutato un po in piedi una situazione che si è stata fatta tragica quindi sei e mezzo sei e mezzo pure io per motivi diversi però entrambi il sei e mezzo lo meritano perché se dò sei a kartdorp evidentemente qualcosa in più sia sanchez che paretesse l'hanno fatta sei e mezzo c'è stato uno dei migliori in campo in assoluto secondo me è stato cristante perché dal punto di vista difensivo ma mi viene in mente ricordi lo abbiamo detto nella live reaction ha fatto un salvataggio a un certo punto si è fatto saltà ragazzi dia è stato davanti al portiere io non so come ho chiuso gli occhi li ho riaperti e mi sono ritrovato cristante che gli ha tolto palla e che l'ha buttata via non l'ho capito veramente non l'ho capito come ha fatto è stata una cosa pazzesca quello che ha fatto non solo quello no ma tanta sostanza in mezzo al campo ha chiuso una marea dei diagonali perché poi ribadiamo la salernitana ragazzi se non è passata due volte e ha fatto due gol ma se tante altre volte non è passata è perché cristante ha fatto un filtro della madonna sì sì ma io ormai posso ormai io veramente nel corso del tempo specialmente da quando murigno siede sulla panchina della roma ho visto un'evoluzione ma forse pure 7 e mezzo forse pure 7 e mezzo io gli do 7 e mezzo no io ne do 7 7 e mezzo no 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 perché poi mi tornano in mente tante cose positive mi avesse messo a referto qualcosa avesse scritto il nome sul tabellino quello ancora il gioco dei pelotti glielo avrei fatto non è gol a guarda per me da 6 e mezzo ha fatto una signora prestazione la qualità la qualità ragazzi per quanto poi calci d'angolo che insomma è però il dinamico come calciatore è un po' da rivedere sui calci piazzati perché qualcuno l'ha battuto bene altri male guarda ne ha battuti parecchi uno ve lo ricordo fatto bene il calcio di punizione il calcio di punizione e basta colpo di testa dei chi che ho a para e poi mancini che la spedisce fuori col ginocchio era calcio d'angolo no mi sa che era calcio di punizione dalla 3 quarti mi sa che era quella l'unica decente che mi ricordo io ma non mi vorrei sbagliare ma comunque una me ne ricordo bene sul piazzato e lui c'ha le qualità in realtà per far bene sempre si si esatto invece paradossalmente ha fatto meglio paretes che un assist l'ha fatto è pur sempre la prima secondo me 6 e mezzo ci possa fa una buona prestazione nel complesso per cui dai tutto sommato spinazzola la sufficienza gliela do seppur ha fatto un momento un momento da 6 e mezzo e un momento da 5 e mezzo probabilmente nel complesso tu gli dai 6 e mezzo io 6 e meno gli do un po' meno tendente alla sufficienza gli do un po' meno per il semplice fatto che come hai detto tu fino a quando la squadra ha girato bene lui ha girato alla grande quando abbiamo subito il primo gol è stato il primo uscito al campo con la testa e io da spinazzola sinceramente una cosa del genere non me l'aspetto zaleschi 6 e mezzo ha dato pure lui un impatto importante secondo me sì anche perché mi vengono in mente un paio di calci di punizione presi sul suo lato dove ha saltato un paio di volte si è sovrapposto più di qualche volta secondo me è meglio di spinazzola meglio di spinazzola però io gli ho dato 5 e mezzo a spinazzola a zaleschi e a 6 io confermo il 6 e mezzo spinazzola tendente al 6 zaleschi 6 e mezzo zaleschi lo stai a mettere sullo stesso livello di paretes e sanchez però secondo me c'è sta velotti 8 ha fatto doppietta ha fatto due gol a momenti ne fa 3 l'anno scorso in serie A quante presenze c'ha? 0 cioè ha fatto del più con 90 minuti che insergevano piedi oggi all'ottantesimo insergevano piedi però nonostante questo ha dato sempre l'impressione di voler fare qualcosa c'è riuscito nonostante il primo gol annullato è riuscito a fare un altro dopo 9 minuti poi addirittura ci ha portato al pareggio col colpo di testa se non mi sbaglio pure un'altra mezza occasione ci ha avuto attirato a muro che aveva protetto bene dentro l'area dei cori si è girato attirato a muro no quell'occasione si è fatto anticipare ha aspettato troppo e gli hanno levato palla quella che dici tu è una palla che è piovuta a mezzo e poteva fare la doppietta nel primo tempo che ha tirato da sinistra al volo ed è andata a muro ma non mi ricordo che è la parte destra del campo l'occasione vabbè può essere che le sto a confondere era il primo tempo era il primo tempo stavamo attaccando alla parte destra del campo di qua attaccavamo no 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 quello è il secondo tempo è appunto non mi ricordo male è verso la parte sinistra però comunque tante occasioni tanta voglia non voglio esaltarmi troppo no no lascia perdere passiamo ai Sharawi è una partita da 8 6 e mezzo è Sharawi perché penso soprattutto verso la fine oh ma quegli strappi offensivi in cui quell'azione che ha saltato un paio tu hai detto tira in quel caso che poi l'ha messa in mezzo a Belotti che l'ha sciccata di punta la sfiorata esatto però è riduttivo la secondo me potrà tira è riduttivo parla solo di quello ragazzi il Sharawi veramente ha alzato il livello in una maniera clamorosa a mio modo da vedere ha fatto un'altra buonissima prestazione se c'è uno che merita il posto da titolare fisso e inamovibile è lui è il primo o uno dei primi in assoluto seppur la davanti con Di Bala Pellegrini lui tanti altri calciatori c'eravamo un paio d'assenzi importantissimi a guarda che può fare praticamente noi uno dei due dietro la punta è ok però secondo me lui merita lui meriterebbe sempre ecco e per quanto riguarda è rimasto solo Murigno? perché qua non vedo altri calciatori Zaleschi l'abbiamo dato no? sì sì Zaleschi l'abbiamo detto tutti gli altri eh Murigno io non mi sento manco da dargli il voto a Murigno ma perché Murigno non è stato Murigno non è stato dalla partita ragazzi dice a Bruno Conti no manco Arterzo che poi siamo l'unici in grado veramente squalificati primo e secondo a mannare Terzo che un altro po' non sapevo manco chi era Arterzo lo sapevo perché lo sapevo ma potresti pure non sapello no? tu che tifi Roma dici ma chi è questo? e gli affianchi vicino Bruno Conti però al di là di questo veramente a Murigno vabbè diciamo al pacchetto di allenatori tra virgolette quanto gli vuoi da? è una partita che ha pareggiato che per quella che era la caratura dove vince la sufficienza non la puoi prendere no la sufficienza assolutamente no io sono deciso tra 5 e 5 e mezzo dico la verità perché come avevi dominato vabbè lascia perdere dai non stiamo a guardare capelli abbiamo appena cominciato e onestamente già non ce la faccio più l'ho già detto pure nel primo canale già sono stanco grazie per la visione ciao ragazzi ciao al prossimo